Io credo che potrebbe essere interessante, da uno spunto di cronaca becera, però fare una riflessione filosofica molto interessante volevo fare e condividere con te questa mattina. Abbiamo visto tutti questa notizia di gossip sostanzialmente, Enrico Montesano si è andato in Rai, lui partecipa a un programma che si chiama Ballando con le stelle, io non l'ho mai visto perché ci sono personaggi al suo interno tra i giudici che io devo dire onestamente sai quelle cose che tu non riesci a digerire, però basta non guardare, è inutile, è come quelle persone che noi invitiamo a spegnere la radio se devono rompere i coglioni, io stesso siccome quella cosa la spengo, ciao, però è successo questo fatto. E che cosa è successo? Che Enrico si è presentato con una magliettina, ora lui ne fa uso di queste magliettine anche storiche, quindi aveva davanti il simbolo della decima massa e dietro un motto, che non è il motto della flottiglia. Questo andatelo a vedere anche sulla povera, aspettate con le fotografie per cortesia regia, andate a vedere anche su Wikipedia, che è una cosa che tutti quanti vanno a modificare, infatti se andate a guardare è stata modificata proprio la dicitura della decima flottiglia massa negli ultimi giorni, andate a guardare in fondo, se andate a vedere decima, trovate che in fondo l'ultima modifica è stata fatta il 13 dicembre, ma è ancora la modifica, no? Adesso noi tra l'altro nei prossimi giorni vi mostreremo anche come era fino alla settimana l'anno scorso, è come oggi quella pagina, perché ovviamente ci sono i siti nel mondo dove ci sono tutte le pagine di quello che è successo, anche la RAI che ha tolto i post che aveva fatto, noi li abbiamo recuperati ovviamente, e non solo noi, l'hanno fatto anche altri, però noi li abbiamo anche noi recuperati, quelle immagini, come recupereremo anche la storia, ma recupereremo anche volendo farlo proprio per mostrare la microscopicità dell'informazione di oggi, lo faremo portando qui le solite cose, la Treccani, i dizionari, quello che c'era scritto, che c'è scritto su chi peraltro l'ha scritto da vincitore della storia, però adesso vogliono ancora peggiorare la situazione perché c'è questa cosa, capito? bisogna cancellare tutto, vabbè, lui si presenta con questa magliettina che va davanti questo simbolo di una fruttiglia e dietro il motto d'Annunziano, memento out of example, che Diego non mi sembra una cosa da fascisti, è un motto diciamo di dignità, che non ha nulla a che vedere, che poi è stato preso in prestito da qualcuno, voglio dire, un motto è un motto, no? Ok, bene, e aveva questa maglia. Tra l'altro di un poeta come D'Annunzio, a meno che non vogliamo dire che non si può più leggere D'Annunzio perché è fascista, non si può più leggere García Lorca perché era marxista, possiamo leggere solo poeti e autori liberali. Solo Schwab possiamo leggere, solo Schwab possiamo leggere oggi. E qui abbiamo, permettimi, il paradosso dei paradossi della società che dice di essere una società aperta, popperiana, che forse si sta rivelando la società più chiusa dell'intera storia umana, in cui non è più possibile dire nulla e fare nulla, e quindi io dico una società che fosse realmente aperta dovrebbe essere quella in cui ciascuno può esibire i simboli nei quali si identifica e questo non vuol dire che dobbiamo condividerli tutti, io ad esempio non condivido certi simboli ma se vedo che qualcuno li espone sul proprio corpo non mi sognerei mai di dire che non ha diritto a parlare o a entrare in un locale, proprio perché se no saremo indistinguibili dalle società autoritarie che critichiamo, è vero, saremo ancora lì e infatti forse siamo ancora lì. Ma guarda, allora, a questo proposito, quindi dietro c'era un motto assolutamente dignitosissimo d'Annunziano e davanti c'era questo simbolo della decima flottiglia. Ora, noi non entriamo nel merito della decima, lo faremo ma con i documenti, perché quella è una flottiglia che derivava da un gruppo militare della Marina molto dignitoso, che aveva fatto azioni di grande onore per l'Italia, per il paese, non né naziste e né contro i cittadini italiani, contro i partigiani, sì, quello è accaduto dopo, quando il suo comandante borghese a un certo punto, così, come si dice a Roma, ha sbroccato e ha deciso di allearsi con i tedeschi. E quindi da quel momento quel gruppo valoroso di soldati italiani al servizio del popolo italiano che avevano preso una marea di onoreficenze, pochi di loro, perché molti se ne sono proprio andati, cioè se il comandante ha sbroccato, no? Che poi è la stessa cosa che stiamo guardando adesso, cioè i professori universitari, qualcuno che fino a ieri erano illuminati, tutto insieme adesso stanno con la siringa in mano, no? Quindi sono diventati assolutamente, no? Anche all'epoca è accaduto che qualcuno ha sbroccato, che è un termine così popolare, ma che rende l'idea, e a un certo punto si è alleato con i tedeschi e ha commesso dei crimini, certo che li ha commessi. Ma non è che perché lui ha sbroccato tutta la flottiglia, tutte le persone dietro e tutta la storia che c'era deve essere cancellata, ma questo è un argomento che riprenderemo con le carte in mano. Ma cosa è accaduto? E poi ne discuteremo anche adesso con Diego, però sul principio di non andare a leggere e guardare bene la storia di tutte le cose. Poi è successo questo patatrack, ma il patatrack è successo perché, perché non sappiamo se è stato organizzato o non organizzato, chi è stato organizzato o chi non l'ha organizzato, se è semplicemente una questione di ignoranza totale, perché quest'uomo, Enrico Montesano, che è un amico e che saluto, ciao Enrico, si è presentato con la maglietta fin dal 5 novembre, possiamo adesso mostrare quella foto che avevate messo in onda prima, eccolo qua. Cioè questa è una foto del 5 novembre prontamente rimosso dal profilo di Milli Carlucci, dove lui stava con Milli Carlucci e la ballerina che gli stava insegnando a ballare, che si chiama, io adesso non ricordo, che si chiama, che si chiama Tripoli, che si chiama Tripoli, Sandra Tripoli credo si chiama, sì, ecco Tripoli, l'avevo segnato perché non conosco questi personaggi. Ecco, il 5 novembre, la data c'è sotto, se lo possiamo mostrare meglio sotto c'è la data, il 5 novembre postava queste immagini, eccola lì, sì, la data, eccola lì, la vediamo perché ci sta guardando in tv, caro Diego, quindi lui insieme alla Carlucci, erano lì già dal 5 novembre, e poi c'è un'altra foto, tra le tante, del 12 novembre, eccola lì, sta lui lì con la maglietta, la Rai, Rai Play l'ha mandata in onda, non so, l'aveva messa caricata sul sito, proprio per farla vedere alle persone delle prove che stava facendo Montesano con questa Tripoli, ok? Quindi, in realtà, tutti avevano visto la sua maglietta, allora qui, caro Diego, le cose possono, cioè le ipotesi sono tante, no? Cioè, che l'hanno fatto tutti apposta, se li reputiamo intelligenti, lo hanno fatto apposta, hanno creato il caso e poi hanno piantato sto polverone. E' una buona pista ermeneutica, secondo me. E' una buona pista ermeneutica, perché probabilmente, se li facciamo intelligenti, hanno fatto questo per creare un polverone, per dare un po' di pubblicità a un qualcosa che stava un po', si stava afflosciando, come quel programma, che non aveva più... La società dello spettacolo su questo si fonda, no? Si fonda su questo. La piacchiera la curiosità e l'equivoco, e qui abbiamo tutte e tre magnificamente con presenti. Tra l'altro notavo, Fabio, una cosa che sicuramente avrai notato anche è che gli stessi che si indignano per la maglietta della decima mass sono quelli che celebrano molto spesso, non in tutti i casi, ma molto spesso, i simboli del battaglione Azov, dicendo che in fondo il battaglione Azov sono degli pi lettori di cante della ragion pratica che lottano per la libertà. Ora, l'indignazione a senso alternato fa ridere, per non dire piangere, premesso che io non apprezzo i simboli neonazisti in alcuna loro variante. Ci ho detto, mi stupisco quando vedo che chi li critica da una parte poi li apprezza dall'altra. Perché diciamoci la verità, Fabio, la verità è che il sistema neoliberale, capitalistico, di fanatismo del libero mercato, chiamiamolo come vogliamo. Si dice antifascista quando gli fa comodo, ma quando poi ha bisogno di usare anche la manovalanza del fascismo e del nazismo, lo usa tranquillamente. Il battaglione Azov in Ucraina, Pinochet in Cile, quindi sono degli ipocriti pietati che usano l'indignazione a loro piacimento. Io dico, quello che è accaduto non dice nulla su Montesano, che è un bravo attore, è un bravo comico e sa fare bene il suo mestiere. Ci dice molto sulla società in cui viviamo e sul livello bassissimo in cui il dibattito pubblico è sprofondato, perché se al cospetto di una guerra mondiale qual è? Al cospetto di un regime terapeutico in forza del quale ancora molti sono discriminati. Il fulcro del dibattito diventa la maglietta di un attore televisivo. Capite bene che il livello è sprofondato negli abissi. Questo possiamo... No, ma aspetta Diego, però aspetta. E lo dice uno che non ha alcuna simpatia per Junio Valerio Borghese, il golpista. Ma per carità, ma per carità, ma è un pazzo, ha fatto una cazzata, dai su. Però se uno vuol mettere quella maglietta e la mettesse se ne assumerà la responsabilità, io metterò la maglietta di Gramsci, tu metterai quella di Platone... Certo, certo. Però aspetta un attimo, arriviamo proprio al punto che è questo. Allora, quel simbolo è stato anche un simbolo di crudeltà e di crimine, giusto? Perché Borghese da un certo punto in poi lo ha fatto diventare così, ma in realtà non è il simbolo, è Borghese che ha fatto questo. Sono alcuni uomini che si sono appropriati di un simbolo e hanno fatto questo. Ma il simbolo in sé, fino ad allora, era un simbolo dignitosissimo. E se qualcuno se ne è appropriato e ci ha fatto dei crimini, a mio parere non deve essere bocciato il simbolo, deve essere bocciato quel coglione che ci ha fatto quelle cose.